si bella la grecia una spiaggia di qua una spiaggia di qua non male monolulu che cosa c'ha da invidiare a quella roba qua intanto qui non ci sono le montagne perché questo chiamano le montagne poi facile fare il bagno nell'acqua lì così ci sarà la temperatura 25 26 gradi il bagno nel lago invece osti da adrenalina perché il bagno va fatto nell'acqua fredda è quello che ti tempra e ragazzi se a qualcuno venisse voglia di venire a vivere qui io ve lo dico questa non è vita è un'illusione la vita vera è un'altra è la brianza guardate giù sul lettino a fanagot sì bello c'è da dire che queste spiagge non sono mai troppo affollate vabbè basta andare a onno lunedì mattina poi le taverne greche sì carina bella ci impieghi un'ora mangiare ci impieghi un'ora solenti come la fame sorridenti tutto quello che vuoi ma la colazione al mattino mezz'ora ti va via mezz'ora chiedi un caffè arrivano le lan due dove è andato a fare il caffè è questa non è vita vera ragazzi la vita vera è un'altra a me manca onno a me manca la brianza e e quindi vabbè me la godo gli ultimi giorni ma poi torno a casa mia bello tranquillo e visto che qua sono un po lenti adesso gli lascio un ricordino chi vuole capire capisca così magari è tra un bagno e l'altro si rendono anche conto di cos'è la vita vera fanai man e far fatica e veloci anche un saluto a tutta la brianza dalla grecia ci vediamo presto e ricordatevi che questa non è vita e quindi e quindi va bene un po di giorni di vacanza li ho fatti li sto facendo sono anche colpevole ma questa non è vita e viva la brianza ciao